Ah 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 uh 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 Penultimo appuntamento all'Aquila della rassegna scrittori al centro organizzata dalla fondazione Carispac e curata da Greta Salve. Al palazzetto dei Nobili è stato presentato il romanzo storico Le nemiche edito da PM, scritto da Carla Maria Russo, protagoniste del racconto, le figure femminili di Isabella Deste e Lucrezia Borgia, le donne più ammirate e temute del Rinascimento. Mi ha attratto molto la loro vicenda umana, io cerco di affrontare nei miei libri sempre temi molto vicini alla nostra sensibilità e alla nostra storia della società ad oggi e in questo libro si affronta proprio il tema dell'inimicizia fra donne che non avevo ancora mai affrontato perché anzi le mie figure erano state sempre molto solidali fra di loro. Qui invece si affronta il tema dell'ostilità, quindi è questa vicenda umana a me che interessa che si lega poi alle vicende umane della Corte con tutte queste loro dinamiche umanamente molto complesse e tutto questo palcoscenico di passioni che io adoro. Carla Maria Russo, nata a Campobasso ma residente da molti anni a Milano, si è intrattenuta a dialogare con lo storico Walter Capezzali sul contenuto del racconto che ricostruisce l'odio feroce, la lotta per il potere, gli sfarsi, gli intrighi e tradimenti di un periodo ancora oggi leggendario che pone le donne più ostili o solidali. Sicuramente tendono ad essere più solidali però ci sono circostanze che scatenano un'avversità e questo è un caso di scuola, un caso simbolico perché la loro ostilità parte da alcuni moventi, da alcune cause che sono forse abbastanza squisitamente femminili ma poi siccome intervengono le passioni umane, le passioni umane sono quelle che ci sconvolgono e quelle che indirizzano poi il nostro destino, intervengono le passioni umane e la cosa diventa molto più complicata, questo rapporto che parte da ostilità in fondo non gravissime si aggrava moltissimo e scatena tragedie. Carla Maria Russo, patteggia per Isabella Deste o per Lucrezia Borgia in questo racconto? Dunque, diciamo che ci sono due piani, quello mio personale e quello come scrittrice. Sul mio piano di scrittrice io mi faccio un obbligo di essere equidistante rispetto al personaggio. Il mio compito non è giudicare il personaggio, il mio compito è descrivere, comprendere bene la psicologia del personaggio, lavorare per approfondire la psicologia, cosa che io adoro fare, io amo molto l'approfondimento psicologico, seguire il personaggio nella sua evoluzione e renderlo per quello che è, come un regista che rende al massimo tutti i caratteri, anche quelli negativi. Quindi il mio compito è rendere bene il personaggio. Se poi mi fai una domanda personalissima, per una serie di ragioni, io mi identifico in Isabella Deste, di più in Isabella Deste. Nel tuo romanzo però alla fine emerge su tutte un personaggio maschile, il più osteggiato, quello che è stato veramente trattato malissimo da tutti i suoi familiari, ma è quello che poi si vendica su tutti perché alla fine gli viene riconosciuto il suo ruolo. Sì, è un personaggio maschile, è una vicenda bellissima, peraltro come sempre nei miei libri è una vicenda vera ed è ricollegato, naturalmente non lo diciamo per non lasciare, per non fare spoiler se no ci rimprovenano, ma è una vicenda d'amore collegata alle dinamiche della corte, che io ho capito bene, approfondito proprio attraverso questo libro. Corte che era un palcoscenico di grandi passioni, proprio di invidie, gelosie, pettegolezzi, intrighi, tradimenti. E' naturalmente l'amore che in questo caso si scontra contro il potere ed è incredibile quanto questa vicenda sia moderna. Io ho pubblicato il libro prima di leggere sui giornali la famosa vicenda d'Einstein, ma tu ritrovi nel libro l'uomo potente che pensa, grazie al suo potere, di poter schiacciare tutti, di poter ricattare tutti, di pretendere, di realizzare quello che lei desidera o lui desidera a prescindere dagli altri esseri umani. E c'è una figura identica in questo romanzo.